Ciao a tutti, bentornati ad Overa Gondor, il canale YouTube dedicato al Signore LLCG. Questa sera nella seconda parte andiamo un po' a vedere, quindi date tutte le considerazioni che abbiamo fatto sulla missione, che tipo di mazzo costruiamo. Quindi, io sono partito in questo modo, ho detto ci vuole un difensore, perché abbiamo capito che preferiamo muoverci verso la strategia del difendere gli attacchi di Smaug. I difensori mi vengono subito in mente Beregond, Erkebrand, Beorn, Grimbeorn, e siccome dobbiamo stare nella sfera blu, ho pensato a Beregond. Beregond blu, che tra l'altro è uno dei miei preferiti, ha una risposta che dice dopo che Beregond difende da un attacco e non prende danni, riduci la minaccia del giocatore di uno, quindi non solo contribuisce a parare, ma anche a tenerci la minaccia bassa, per cui Beregond è stata una scelta molto forte. È stato in balottaggio con Erkebrand, perché Erkebrand può andare a cancellare gli effetti ombra, ma poi ci arriviamo. Chi associamo a Beregond? Gli altri eroi devono poter, diciamo, out of the gate, andare in impresa forte. Cioè, se a noi ci capita un luogo e Smaug ha minaccia 7, un altro luogo, è facile che abbiamo 10-12 nell'area di allestimento, possiamo anche andare a perdere le prime due forse fasi di impresa, ma poi dobbiamo per forza metterci sopra come board. E quindi sono andato su quegli eroi che già naturalmente hanno un alto valore di forza di volontà, Arwen A3 ed Eowyn A4. Tra l'altro Eowyn rossa, Eowyn tattica, oltre a essere uno degli eroi più forti del gioco, ha anche l'abilità che non solo ti fa partire con minaccia più bassa, ma addirittura ha un'azione per cui alzi di tratto a minaccia, la stappi e ti attacca, prende un più 9 di attacco fino a fine del turno. Quindi quei 28-30 che servono per far fuori Smaug, un terzo se ne occuperà Eowyn a tempo debito. Ok, quindi definito il terzetto di eroi che mi fa partire da minaccia 25, perché il 28 il totale, ma Eowyn fa partire sotto 3, vado a definire chi vada a metterci dentro. Allora, gli alleati, abbiamo detto, devono assolutamente avere forza di volontà, perché noi tendenzialmente giocheremo ad avere Smaug sempre nell'area di allestimento, ma anche avere parecchie vite. Quindi ho cercato tutti i eroi che fossero in grado di avere almeno due vite, due, tre vite, e un buon rapporto tra costo e forza di volontà. Quindi almeno un 3-2 se non addirittura un 2-2, un 3-1 con anche segnalino progresso e bonus alla forza di volontà, Talion e Barbaalbero che sono eroi, che sono alleati molto forti. E quindi diciamo, questi sono gli alleati che ho scelto per affrontare questa missione. Sempre con la stessa logica, alleati che fossero anche in grado poi, un dopo, anche di attaccare. Per cui Barbaalbero, Talion, il Rovanion Outrider, Meneldor, Glorfindel, Bofur, sono tutti eroi che un po' di forza di attacco ce l'hanno. Ci spostiamo poi verso, diciamo, gli attachment. Allora, partiamo dal fatto che, come vogliamo Beregond? Beregond vogliamo che sia una torre. Quindi Beregond ci andrà sicuramente allo scudo di Gondor, per forza, e voglio che cancelli gli effetti ombra, e quindi la Burning Brand. Però la Burning Brand deve attaccarla a un personaggio che abbia un'icona verde. E Beregond non ha un'icona verde. Quindi ho pensato di mettere le canzoni. La Song of Wisdom che attacchiamo a Beregond ed è quello che ci sblocca, la Burning Brand, no? Quindi noi rendiamo Beregond con lo scudo di Gondor che lo porta a 6, la Burning Brand grazie allo Song of Wisdom che gli fa cancellare gli effetti ombra. Ok. Vuol dire però splashare il verde. Il verde sia col Song of Wisdom che grazie a Reforged. Reforged è un evento che costa X e dice scegli un aggregato con un Printed Cost of X, quindi con un costo di X che è quello che decidi tu, in qualsiasi pila degli scarti. Giocalo senza pagarne il costo. Sostanzialmente se avete un'aggiunta a costo 2 in una pila degli scarti potrete riforgiarla. E quindi a questo punto mi è venuto naturale dire beh possiamo a questo punto metterlo lo Steward of Gondor perché così non solo giochiamo con le carte in mano ma anche con le carte nella pila degli scarti. Ovviamente tutto questo da che cosa è reso possibile? Da Arwen perché Arwen come azione può scartare una carta dalla mano per aggiungere una risorsa o a lei o ad Aragorn ma chiaramente la aggiungerà a lei. Quindi l'idea è Arwen non appena ha carte in mano che non sono del suo colore o rosse le scarta per ottenere risorse e perché così quando avremo il Reforged potremo giocarle sugli altri eroi. Quindi sostanzialmente lo Steward of Gondor andrà su Beregond insieme a sia la Burning Brand che comunque dovremmo avere la canzone per poterla giocare che anche per esempio il Protettore di Lorien. Il Protettore di Lorien ci dice, Protetto di Lorien ci dice azione, scarta una carta dalla tua mano per dare all'eroe più un attacco o più uno di forza di volontà. Tutto questo si basa ovviamente sull'Elven Light che è questa carta evento blu che dice l'Elven Light può essere giocata solo dalla tua discard pile, azione, ritorna l'Elven Light nella tua mano dalla tua discard pile e pesca una carta. Quindi la logica è ho in mano l'Elven Light, la scarto con l'abilità di Arwen, Arwen guadagna una risorsa, spendo quella risorsa per ripescare l'Elven Light e pescare un'altra carta. Per cui quanto più io ciclo questo, cioè quanto più io riesco a scartare carte che sono Elven Light e avere risorse per ripescare, tanto più io vado in veloce sul mio mazzo e riesco a preparare la Torre di Beregond e gli alleati per attaccare prima. Quindi in questo senso il Protettore di Lorien non solo ci aiuta in difesa se serve o in fase di impresa, ma ci aiuta anche a scartare carte. E lo stesso discorso fare per la Songo Willing che andrà giocata su Beregond. Nel momento in cui io ho Beregond che può cancellare gli effetti ombra e curarsi, grazie al fatto che scarto l'Elven Light, io posso gestire Smaug. Perché se anche mi attacca 8 e mi fa due danni ma io gli cancello gli effetti ombra, io poi mi curo. Per cui il mazzo ruota intorno a questo concetto del sfruttare la pilla degli scarti andando a scartare carte per dare risorse a Darwin e accelerare il mio board. Ma soprattutto avere la Elven Light che mi aiuta a ripescare e fare più velocemente. Che cosa completa il pacchetto di Beregond? Il Raven Winged Elmen, l'elmo ali di Corvo, che è un attachment che costa 2 e che dice risposta esaurisci l'elmo per prevenire un punto di danno appena fatto a questo personaggio. Quindi è un modo con cui ancora stiamo buildando e tancando Beregond. Un'altra carta che non può mancare è il Silver Ciclet che attaccheremo sicuramente a Darwin. Purtroppo solo a lei possiamo attaccarlo e a poco senso attaccarlo su Beregond. E 3 Ancient Method perché li trovo molto utili in single player quando si gioca al Blue per accelerare il mazzo. Soprattutto in una missione con così tante location, alla fine il 50% saranno location, il 50% saranno perfidie. Una risorsa Blue per pescare 3 carte è sempre un grosso vantaggio. 3 Coraggio in l'ho aspettato da Dara a Beregond e poi a Eowyn per fargli prendere The Old Trash e quindi concludiamo il pacchetto di attachment. Andiamo negli eventi, alcuni li abbiamo già visti. Allora ci sono 5 eventi per la minaccia. Il Consiglio di Errond ovviamente e i Galadims Greeting che chiaramente ci fa abbassare la minaccia di 6. Diciamo che nei vari playtrut ho giocato sempre il Consiglio di Errond e mai giocato Galadims Greeting, però è una carta che mi dà sicurezza. Il sapere che con 3 risorse Blue posso scendere di 6 di minaccia e stare sotto quel fattidico 30 mi dà parecchia sicurezza. Il Reforged di cui abbiamo già parlato è l'Elven Light. Immancabile la Test of Will, la prova di volontà, non in tre per un po' perché già sono a 55 carte e preferirei essere 50 ma non so bene come limare e un po' perché non sono tantissime le perfidie che ci fanno male, anzi paradossalmente noi vorremmo rivelare perfidie perché quasi tutte hanno effetti migliori diciamo per il tipo di approccio di gioco che stiamo facendo rispetto alle location. Stand and fight per due perché può sempre capitare il momento in cui perdi un alleato e lo vuoi riportare in gioco e tutto. E poi una chicca è Lansing Strike che è un evento a costo zero che dice azione, scegli un personaggio che controlli fino alla fine della fase e quel personaggio prende più tre all'attacco quando attacca un nemico con un più alto costo di ingaggio rispetto alla tua minaccia. Questa non l'avevo messa subito ma poi l'ho messa e mi è piaciuta molto e l'ho usata nei vari playthrough. Siccome noi giochiamo a stare sempre sotto di minaccia ci troveremo spesso nella condizione a fare l'attacco finale a Smaug se ci arriviamo ovviamente con essendo sotto di minaccia e quindi Lansing Strike che ci aiuta perché ci dà un più tre a costo zero. Infine due side quest perché non sarà una quest che dovremo andare in velocità anzi ma dovremo davvero passare dieci turni fondamentalmente tra lo stadio 1 e lo stadio 2 anche 15 dipende dalla partita e quindi c'è il double back sempre fortissima che ci aiuta quando la sconfiggiamo a diminuire di 5 la minaccia e raccogliere informazioni che sostanzialmente ci fa andare a prendere quella carta che ci serve in quel momento per esempio in un playthrough mi serviva barba albero per aumentare la potenza di fuoco in un altro mi serviva la prova di volontà perché avevo paura di una specifica treceri e così via. Nel sideboard ho messo Galdor dei porti e Norden Tracker così come possono anche essere aumentati Pellagy Shipwright per giocare un po' sulla curva dei costi se volete più avere più blu più rossi il verde di Galdor che è molto sinergico con Arwen però fondamentalmente l'impostazione del mazzo è questa sto sotto di minaccia vado in ricerca più che posso gestisco gli attacchi con Beregond e costruisco Beregond in modo tale da essere pronto sempre a pararmi gli attacchi di Smaug. Quando sono pronto proseguo. Benissimo allora spero che questi due diciamo episodi Ponte Lago Lungo analisi della della missione e Ponte Lago Lungo analisi del mazzo e vi siano piaciuti nella stessa cartella pubblicherò tutta una serie di playthrough vedrete che i mazzi non sono proprio identici in qualche playthrough magari ho fatto un errore ho dimenticato una risorsa ho aggiunto una risorsa però una quest su cui tornerò spesso per cui spesso la riproverò un po' perché mi piace molto un po' perché quando costruisco dei mazzi specificatamente per alcune missioni poi mi piace ritornarci periodicamente per vedere se effettivamente posso migliorarli smussarli e così via tanto vi ringrazio alla prossima buona serata